Io mi immagino ieri sera uno straniero o una persona che assiste per la prima volta al derby della capitale nonché la città eterna e penso alle esternazioni dello speaker della squadra che giocava in casa ma l'anteporre AS o la Roma vi è chiaro il significato? Se in questa città ovunque campeggia l'Aquila e quel simbolo di finzione è sui tombini ci sarà un motivo? Non bastassero le date a rimarcare che siete gli ultimi degli ultimi Roma, 9 gennaio 1900 Società sportiva Lazio a difesa del suolo natio Grazie 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 Grazie